Io penso che bisogna ripartire da zero, che il Ministro venga a spiegare a questa città cosa contiene l'accordo di programma e cosa è previsto per i lavoratori, visto che lui ha promesso che l'occupazione è il primo dei pensieri. Da questo accordo sindacale questo non emerge e non si giochi a lasciare la responsabilità in mano ai lavoratori di decidere del proprio destino senza sapere che cosa lo Stato, la Regione, il Comune, l'autorità portuale intende fare nel concreto. Parole al vetriolo quelle del segretario della CGL Michele Piga sulla gestione della questione ferriera. Le critiche sono rivolte soprattutto al Ministero presidiato dal pentastellato Stefano Patonelli. Mancherebbe chiarezza sui progetti da presentare, non sarebbe pronto un vero e proprio accordo di programma per presentarsi al vertice del 23 dicembre a Roma con tutte le carte in regola per dare una risposta definitiva ai lavoratori. Questo accordo sindacale dovrebbe avallare un accordo di programma che nessuno ha visto ed è davvero paradossale che si pretenda che si possa discutere di un accordo sindacale senza discutere alla fonte e da qui c'è una responsabilità enorme da parte del Ministero che non si è confrontato con le organizzazioni sindacali nel mantenere complessivamente le promesse che la politica ha fatto in generale ovvero il mantenimento dei livelli occupazionali. Il tema non è se c'è presente la regione o meno, il tema è più profondo. Noi vogliamo capire qual è il giudizio su un piano industriale che noi abbiamo visto ed è inadeguato, insufficiente, non spiega gli interventi, i soldi dove vengono messi e come vengono ricollocati nel lungo periodo i lavoratori. Poi è stato rimarcato il fatto che la situazione della ferriera non andrebbe analizzata come realtà a sé stante ma in relazione a tutte le crisi industriali che negli ultimi anni hanno travolto il Friuli Venezia Giulia. È evidente che Arvedi non farà investimenti adeguati a garantire tutta l'occupazione e a mantenere il livello industriale e quindi serve fare un ragionamento più profondo sull'area di crisi industriale complessa. È inutile che si continui a dire che ci sono grandi interessi che si vogliono acquistare quell'area e non sappiamo né chi le vuole comprare né cosa ci vuole fare e né quante persone vuole rioccupare.